Salve a tutti e bentornati di nuovo nel canale di FilippisDomanda3 stiamo per iniziare, come ho detto prima, il quarto mondo di Turok Dinosaur Under le rovine, va bene, perfetto, così le chiamerò le rovine, va bene, le rovine, Dinosaur non c'è più potrei andare dritto, e qui c'è uno scheletro assassino che mi sta puntando in modo maligno quello l'abbiamo già ammazzato, però c'è qualcosa qua dietro? sì, c'è qualcosa, c'è decisamente qualcosa, useremo quest'arma perché l'arma che abbiamo ottenuto muore, maledettissimo, a un solo colpo ce lo siamo fatti fuori con l'arma nuova e qua c'è strada, e qua c'è strada, no, maledetto, maledettissimo, butta sangue ottimo, e poi potremmo anche risalire, vediamo, qua c'è strada abbiamo pochissimi punti salute, quindi dobbiamo assolutamente rifocilarci a tutti i costi oh, che canzone, molto, poco rassicurante vediamoci in acqua, vediamo quello che riusciamo a trovare continuiamo sotto, ci sono i pescioli una caverna, lo sapevo che c'era un trucco, lo sapevo, lo sapevo oh, bello, bello, bello la cella di energia, che sarebbe quello per la nuova arma ma di fatto adesso siamo di nuovo al massimo, immagino esatto, quasi al massimo no, maledette, maledettissime, mi spugono così all'improvviso a farmi venire un infarto, morite, maledettissime sanguisughe, pieni di sangue, pieni di veleno e dove siamo qua? altre sanguisughe assassine bisogna stare attenti alle sanguisughe venerose, venerosissime, venerosissime questa è la cava delle sanguisughe, a tutti gli effetti un bel habitat che si sono creati, pieno di schifezze bene, ok, caricatori uh, che peccato, ho perso, ho perso ah, ho perso il backup lo zaino ho perso, praticamente non posso più accumulare le robe non posso più accumulare le robe, va bene andiamo avanti frecce di te, che è? da dove? ah, maledetto, sei tu? tutti sangue, ovviamente 32 vite però, porca misera, stiamo andando male perché il terzo mondo ci ha veramente piegato quel boss maledetto quindi dobbiamo stare molto, ma molto a te sembrava che c'era qualcosa te lo giuro dava l'impressione che ci fosse qualcosa saliamo, saliamo e lui quello deve morire mori, maledetto non sono andato né avanti né indietro quindi non mi sono perso in dei checkpoint fantastico no! ma porca miseria, un saldo dovevo fare oddio, un salto dovevo fare ma sono proprio una schiappa ma porca miseria questa vita, veramente, l'ho buttata nella spazzatura a tutti gli effetti una cosa bruttissima ok una bella penura scanabile proprio quello che ci voleva per continuare la nostra tortù muori, maledetto e qui sopra cosa c'è? dai, vediamo se c'è qualcosa di interessante secondo salute aiuto l'ho detto lo zaino lo zaino porca miseria finalmente lo zaino così possiamo aumentare le nostre riserve di cartucce ottimo, ottimo veramente eh eh fuori maledettissimo fuori eh lo sapevo maledettissimo ma quando è aggressivo ma quando è aggressivo non avete idea di quanto sia aggressivo questo stronzo veramente c'è la energia ottimo siamo di nuovo a 100 benissimo mmm al limite, al limite ma ce l'ho fatta al limite non mi sono questi stronchi sono proprio l'abastendo fatta apposta per buttare sangue ah ok spero che sia finita e sono ritornato qui all'inizio bene devo prendere la chiave no maledettissimo ti uccido con la stessa con la stessa arma maledetto eh l'ho fatto fuori meno male maledettissimo ma che è sta cosa? la chiave dell'ottavo mondo è così bellissima bellissima veramente e doveva andare qui ci doveva andare a tutti i costi meno male che mi sono fatto la strada di dietro perché se no avrei perso queste chiave per sempre era proprio qui all'inizio però ci poteva arrivare solo in quel mondo adesso possiamo andare dritti definitiva me e ne entriamo qua dentro dai due punti salute presi oh il dinosauro che mi ha fatto vedere Marco Sarti eccolo qua già dal quarto mondo praticamente inizia va bene abbiamo fatto morire in modo brutto molto brutto devo dire ok proviamo ad andare di qua e qua già c'è la fine no netti venite così all'improvviso ma che è questa schifezza? che cacchio che è sta cosa? eh tu maledetto osso assassino devi morire ma che insetto era? sicuramente velenosissimo non penso che fosse una mosca e basta oh ci sono tanti nemici imbassamati qua questa cosa non me la ricordavo quindi cosa devo fare devo ammazzare? però qua è chiuso che cacchio ehi e tu come si è animato quel dinosauro ah forse veniva da fuori ok va bene forse veniva da fuori prendiamoci tutti i caricatori possibili immaginabili ma come faccio ad aprire lì? io non l'ho capito sinceramente punti salute presi dinosauro di nuovo che ne rompe le scatole ok praticamente si aprirà grazie a questa nooo che cosa si sono sbloccati tutti i maledetti nooo non me l'aspettavo sta cosa oddio un pochettino me l'aspettavo e chi è quel pazzo fuori no 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 aiuto aiuto devo scappare scappa 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 non ci sto capendo niente maledetto una gabbia di pazzi quella era nooo ma che cosa lancia quello le maledizioni lancia muori maledetto tu devi morire per primo no di nuovo questo stronzo che è resuscitato butto sangue l'abbiamo ammazzato quello si grazie al cielo l'abbiamo ammazzato che forse era quello più pericolo che sta succedendo si stanno ammazzando tra di loro muori maledettissimo Hulk ammazzato grazie al cielo ce l'ho fatta anche se la maggior parte di loro la maggior parte si è ammazzata tra di loro devo notare quindi ottimo nooo ottissimo che cacchia all'improvviso mi vieni i grandi infarti che mi fanno venire la maggior parte si è ammazzata tra di loro credo che ci fosse anche una cosa aliena se non sbaglio lì che è ah vabbè che schifezze morite 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 quante sono ma poi si moltiplicano in continuazione sei schifo ok il tizio del meteo c'è lì perfetto ok da previsioni buone a quanto pare vai 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 butta 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 e non butta mai sangue butta sangue nooo ma che cacchio butta ehi quando ce ne vogliono eh oddio ok perfetto l'ombra di Turok perfetto questo è molto semplice dai molto semplice dobbiamo arrivare alla vita extra ed è molto facile questa cosa dai eh no porca era semplice era ovviamente non pensavo che si oscurasse tutto questo diventare tutto molto complicato e adesso la sto girando attorno e non ci arrivo questa è la cosa assurda mi gira attorno ma non ci arrivo si vede niente ma che frecce però ce lo prendiamo tanta roba che frecce senti è impossibile arrivarci lo so rinuncio alla vita extrema che ci posso fare è difficile e noi abbiamo quello però da sterminare ce lo mettiamo da qui ma mi vede mi vede mi vede mi vede mi vede maledetto e non muore mai oh che cosa ha fatto no e mi metto poi c'entra oh ma la vuoi non è possibile non muore mai oh finalmente con un colpo al piede abbiamo ucciso guarda ce lo stermiamo subito immediatamente ovviamente no vabbè non ce lo riusciamo a seguire oh porca miseria c'è una chiave visto che c'è una chiave da sopra prendiamoci tutte le vite possibili e immaginabili per cortesia ammazziamoli tutti questi devono morire tutti ah maledetti guarda quante vite che mi stanno togliendo mi sta uh maledetto mi è mancato stronzissimo mi è mancato purtroppo era importante la vite extrema ma non sono riuscito a prenderlo vabbè chiave presa eh bene oh ma forse abbiamo già preso tutte le chiavi possiamo già andarcene da qui col cacchio c'è un'altra chiave più il cronoscettro quindi alla pace che dobbiamo ancora buttare sangue bene e noi andiamo qui no non dobbiamo andare alla fine maledetto pieno di valeno ma quando è resistente sto dinosauro quando è brutto è brutto e resistente allo stesso modo praticamente ah ecco maledetto pieno di valeno e pieno di sangue ammazzato subito vita vita porca miseria punti salute presi ottimo cerchiamo di andare avanti perché mi sto un po' a fermare boom no e che cacchio non muoiono mai questi buttate sangue con la pistola vi sto pure ammazzando pensate voi quanto tempo sto perdendo con voi chi è sono volati dagli uccelli sono no 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 morite morite ma perché non cambio arma perché non sdocca si è imboscato quel dinosauro bene allora tu ci devi dare un sacco di vite ok benissimo 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 ci è andato un casino questa volta è stato veramente bonario quell'animaletto assassino ho detto io non la cambio l'arma eh voglio farmi la vita difficile c'è c'è vulca là dentro lo posso già ammazzare da qua vero con la pistola faccio danni oh maledetto mi ha visto maledetto mi ha visto muori 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 dov'è chi è che mi sta ammazzando ha detto uomo osso devi muo... ah che non è solo uno qualcun altro mi sta prendendo maledettissimo ma porca miseria non buttano mai sangue questi allora ok si può fare no maledetto preso la grande ci dà la cella di energia no la cella di energia ah no l'abbiamo presa meno male meno male pensavo fosse caduta non è facilissimo va bene che cos'è cronoscettro un'altra arma un minigun bello che roba è cosa fa ok carina sembra un frullatore elettrico va bene oh l'ombra di turok ok un altro aiuto perfetto ottimo 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 un'altra zona d'aiuto ci voleva assolutamente come il pane ci voleva sottilissimi ok aspettiamo si vai salute completa e alla grande dai oh perfetto ma questo non c'era prima bellissimo la matura di te che quindi ne basta veramente la pena venire qua e ora dobbiamo di nuovo ritornare là un altro aiuto vediamo ok quello di prima ci voglio riprovare di nuovo dai sono in corso in modo perfetto eccola si salute ultra e va bene allora si dai e allora si e allora ti dico si siamo messi benissimi poi siamo finiti nel fango però che schifo ok il tizio del meteo non è d'accordo che io devo andare muore 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 butta sangue buttato sangue ottimo oh una piattaforma ottimo e questo ci sblocca il passaggio ottimo però prima di tutto vorrei andare di qua maledetto guarda dove l'ha nascosto quello non l'avevo visto secondo te vero non l'avevo visto secondo te vero butta sangue caricatura di smisura siamo messi siamo messi bene anche da sopra dai dai e non c'entra niente e non c'entra niente che è cosa mi sta attaccando no ma basta sti dinosauri mamma mia che pade sti dinosauri che due vera Hulk è nettissimo senza oppor resistenza ma quante ce ne vogliono a quante ce ne vogliono vabbè col frullatore dai ok oh col frullatore l'abbiamo fatto subito fuori chiamo frullatore però non so perché lo chiamo frullatore ok qua c'è un'altra zona se posso saltare direttamente dove vediamo ma forse abbiamo evitato un po' di questo è maledetto lo conosciamo tutti quando è maledetto e anche voi ma appena mi vede mi fa la festa sto stronzo appena mi vede mi fa la festa si ciao ciao veramente ce ne sono due qua ce ne sono due stanno devastando l'albero praticamente ok uno è morto quello è ancora vivo e l'abbiamo oh quanti voli che abbiamo fatto fare giostre gratis giri gratis per loro e andiamo nascita a caverna che non mi sembra niente di rassicurante per niente sanguisughe assassine però aspetta voglio farvela fuori con queste vediamo vediamo l'effetto che ha quest'arma in conquista e sanguisughe pieni di sangue fanno fatica a morire però fanno fatica a morire salute no ne abbiamo abbastanza oh 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 piano piano calma calma quella deve morire certo anziché una coltellata devo sprecare l'arma buona per questa stronza oh ci sono due strade però ci sono due strade questa strada dove non c'è niente e quindi la strada è questa mi sto ammazzando così neanche il coltello sto utilizzando perché è mista sta zona mezze sanguisughe mezze scaravaggi quindi cambiare l'arma è un po' difficile qua no no aiuto no armatura ma la stanno facendo a pezzi l'armatura porca miseria hanno delle unghie così taglienti letteralmente ma ammazzano la mamma sanguisuga la madre sanguisuga maledetta guardate come piena di sangue la madre sanguisuga questo può forza così ma la madre sanguisuga no mamma mia quando è aggressiva maledetta aiuto scappa scappa quanto è brutta